Nei primi 11 mesi dell'anno in corso sono 1578 le vittime della strada rispetto alle 1548 dello scorso anno. I dati raccolti da polizia stradale e carabinieri aggiornati al 30 novembre scorso attestano che c'è un aumento di morti causate da incidenti stradali. Una strage inaccettabile per il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio che sostiene con forza che servono provvedimenti urgenti per la sicurezza. In media muoiono 10 persone al giorno in Italia per incidenti automobilistici e l'80% di incidenti gravi è provocato dall'uso del cellulare. C'è sempre più la necessità di mettere in campo azioni nuove e fare qualcosa di innovativo mentre la norma che inasprisce le sanzioni contro chi utilizza il telefonino al volante è pronta da diverso tempo. E su questi temi che stamani si è aperto al liceo da Procida di Salerno il terzo appuntamento con gli studenti sul tema della sicurezza stradale promosso dalla provincia di Salerno e dalla sua campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale per le strade della vita per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza sulla strada e della legalità. Un corso con i giovani studenti impreziosito dall'esperienza tecnica e didattica in materia di sicurezza sulle strade del comando provinciale dei carabinieri guidato dal colonnello Antonino Neosi. A coinvolgere gli alunni del liceo sui temi spinosi della sicurezza stradale sul consumo di alcol e droga è stato il tenente Bartolo Taglietti comandante del nucleo operativo in radiomobile di Salerno che sulla scorta della sua esperienza di vita e di lavoro ha catturato l'interesse di tutti nell'aulamagna della scuola nella consapevolezza di essere sempre responsabili in strada sia come conducenti che come pedoni. Una missione quella di Maria Rosaria Vitiello giornalista diventata un simbolo dell'impegno attivo per la sicurezza stradale dopo il dramma vissuto per essere stata travolta da un'auto nel dicembre del 2014 nella stessa sera in cui aveva moderato un incontro proprio sul tema della sicurezza in strada. Crediamo nell'importanza di parlare ai ragazzi perché non è vero che può sembrare che siano scontate, banali, in realtà è importante parlare di queste cose con i ragazzi che magari anche presi alla loro innocenza, alla loro volersi divertire, possono non ritenere importanti dei segnali che invece sono fondamentali. Io sono forte di un'esperienza personale di vittima della strada e quindi forse è proprio questo fatto, il fatto di essere riuscita a venire fuori da questo baratro, come lo chiamo io, che mi dà la forza di comunicare soprattutto ai giovani ma a tutti i cittadini delle comunità della provincia di Salerno per tenere gli occhi aperti sulla strada e rispettare se stessi e gli altri perché la strada è di tutti e dobbiamo rispettare noi stessi e gli altri in quanto possiamo essere vittime, come nel mio caso, ma anche carnefici, quindi possiamo anche fare del male agli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.